Lui è un giornalista, un grosso giornalista in una grande città. Ha amicizie molto alto locale, che lo mandano in vacanza anche se lui non lo ha chiesto. Le montagne rocciose. Allora ti interessa? Buonanotte. Senta, lei va da pure. Mi lasci qui a morire. L'ho sognato per tutta la mia vita, di morire sulle montagne. Lei studia il comportamento delle aquile. Lui è un'esperta in materia e non ammette trasgressioni da parte di nessuno. Lei respira aria pura. Fa un grosso sbaglio a fumare. Lui solo nicotina. Niente da fare. Sono 13 anni che il dottore mi dice che devo smettere, ma io... A lui capita di perdere la sua sicurezza e alla fine lei sarà costretta ad occuparsi anche di lui nel momento del bisogno. John Bilushi Blair Brown Chiamami Aquila Chiamami Aquila